Indovina cosa c'è in regalo nel fustino di Perlana? Un coniglietto verde, oh ma è nuovo! Indovina cosa ho trovato sul flacone di Perlana? Il maialino rosa, oh anche questo è nuovo! Indovina che cosa abbiamo vinto con Perlana? Tutti i pupazzetti, oh ma sono tutti nuovi! Ritorna all'Arca Pompon con tanti nuovi pupazzetti. Puoi trovarli nelle confezioni di Perlana liquido e polvere. E puoi vincere un'arca fatta apposta per loro. Passa parola!